No! Sì! No! Se lo denunci... È un alcolizzato! Se lo denunci sarà la fine della sua carriera. Tu non lasci spazio a nessuno. Stranamore non accetta debolezze. Non chiamarmi stranamore. Stranamore fa lo strastroncio. È un alcolizzato! Da quanto tempo beve, eh? Dalle vacanze? Perché vuoi prendere appunti per poterli mostrare al Consiglio in modo che ti offrano subito il suo posto? Tu vuoi il suo posto, lo sei tu e lo so anch'io. Dirigo neurochirurgia, ho delle responsabilità verso l'ospedale. Ammetti di volere il suo posto. Sai che ti dico, sono stufo di questa discussione. Andrò al Consiglio e denuncerò Richard. Guarda. Il post-it! Non puoi appellarti al post-it. Io mi appello al post-it perché ho rivelato un mio segreto su un mio amico a mio marito, non al neurochirurgo. A mio marito e questa è una cosa che io devo poter fare. Quindi la legge del post-it chiaramente prevale. Beh, è sbagliato. Il post-it! Il capo! Il post-it! Va bene, non dirò niente. Bene. Porca miseria, certe volte mi fai venire, voglio dire... Izzy sta tornando a casa. Devo dirlo ad Alex. Non dirò una parola. Non andrò al Consiglio. Ma pensa a quello che ho detto. Ok. Ok.